Ciao amici di Scatta Impar e benvenuti in questa pillola dove parliamo delle modalità schermo di Lightroom ovvero vediamo alcuni parametri che vanno ad influenzare lo stile di visualizzazione della finestra di Lightroom Passiamo quindi a Lightroom, eccoci qua, e vediamo subito che le varie modalità schermo sono elencate nel menu finestra, modalità schermo Tutti questi comandi hanno a che fare con il tasto F, però con delle aggiunte del tasto CTRL ALT maiuscolo oppure in MAC maiuscolo, OPTION e COMMAND questo ha un comportamento diverso e vediamo i comportamenti principali Anzitutto la semplice pressione del tasto F avvierà la modalità a tutto schermo dove potrò vedere le mie immagini a tutto schermo e questo funziona sia nel modulo sviluppo che nel modulo libreria Invece la pressione del tasto maiuscolo F permette di far ruotare le varie modalità schermo Vediamo che in questo caso è sparita la barra in alto e questa cosa può essere molto interessante perché mi capita spesso in alcuni gruppi che parlano di Lightroom che le persone chiedono, aiuto? Mi è sparita la barra in alto, come faccio? Semplicemente con la combinazione di tasti, Shift F, si fa ruotare la visualizzazione finché si ritorna a quella normale Quest'altra visualizzazione è a pieno schermo senza addirittura la barra dei menu Shift F ancora una volta e si ritorna alla visualizzazione normale Avevamo visto che c'erano degli altri comandi, infatti un piccolo riepilogo è proprio questo F permette di andare a tutto schermo Shift F di far ruotare le modalità a schermo successive dove non è presente la modalità a tutto schermo a singola foto Control o Command Alt F Qualsiasi sia la modalità a schermo porta alla modalità normale Control Shift F fa schermo intero senza pannelli Diamo un ultimo sguardo a questa modalità Control Shift F schermo intero senza pannelli Proprio per avere maggiore area o di lavoro o di visualizzazione Però avendo a disposizione i nostri pannelli in queste posizioni Avendo quindi la possibilità anche di bloccarle Control Shift F Ritorno modalità normale Curioso vero? Sai delle domande? Riportali nei commenti Sai qualsiasi altro dubbio su Lightroom? Chiedimelo o consulta il mio sito o il mio corso che ho sviluppato E noi ci vediamo nelle prossime pillole Ciao!